Il sindaco di Castrovillari, Domenico Lopolito, dopo una ricognizione delle strutture scolastiche pubbliche e dei provvedimenti di quarantena, che interessano alcuni alunni ed operatori scolastici, ha fatto slittare la ripresa delle lezioni in presenza al 3 dicembre per le scuole dell'infanzia elementare prima media. In una situazione forse un po' di preoccupazione generale, alcuni sindaci calabresi e poi anche la Regione Calabria aveva sospeso le attività didattiche in presenza anche per queste scuole fino al 28 di novembre. Sappiamo bene che fino a fatto quell'ordinanza perché il TAD ha detto che era illegittimo, quindi le scuole devono stare in presenza, ripeto, infanzia, elementare e prima media. Io pure avevo fatto l'ordinanza fino al 28, ordinanza che ho prorogato come efficacia fino al 2, quindi dal 3 dovremmo tornare a scuola. Perché questa proroga? Perché nel frattempo noi abbiamo completato un plesso scolastico, finalmente dopo tanti anni, che è quello di Via Roma e questi giorni ci servono per fare il trasloco e poi ovviamente la sanificazione. Noi per dare il massimo della garanzia stiamo effettuando anche i tamponi antigenici, sempre gratuitamente, anche agli insegnanti che di volta in volta stanno andando al drive-in che abbiamo all'area mercatale, e quelli che hanno fatto i tamponi fino ad adesso sono tutti negativi gli operatori scolastici e continueremo proprio per dare il massimo della garanzia. Ci tenevo però a sottolineare un dato, noi abbiamo avuto anche nella nostra cittadina dei minori positivi, però ricostruendo tutti i contatti nessuno era stato contagiato a scuola, viceversa tutti sono stati contagiati da adulti e spesso dai propri genitori. Riprenderanno invece regolarmente il 30 novembre le attività del nido comunale e le attività delle strutture scolastiche private, alle quali è data tuttavia facoltà di uniformarsi alle disposizioni di rivio della ripresa delle attività stabilite, come detto, per il 3 dicembre.